Buon esordio in campionato per la Valvolley Beretta di Coach Ghilardi, che ha sconfitto in 3-7 con il punteggio di 25-17, 26-24, 25-20 il neopromosso U-Volley Pralboino. Cominciare con una vittoria in un derby, un bel viatico per la formazione Valtrumplina, rinnovata e rinforzata rispetto allo scorso campionato di Serie C. I risultati ci sono subito visti perché Bonera e compagne non hanno concesso un solo parziale alle avversarie. Prossimo impegno sabato 22 ottobre sulle parchee di Viadana. Prima vittoria invece per la Valtrompia Volley nel campionato di Serie B maschile. Dopo l'iniziale sconfitta in casa contro Caronno, i Lupi si sono rifatti nel match giocato in trasferta contro Galstaff Mornago. Risultato finale 3-1 a favore del team Valtrumplino.